Ed eccola qui la vincitrice, la scarpa più amata da tutte le donne che non amano le scarpe a punta stretta sfilata ma anche per tutti i piedi a pianta larga. La forma è una forma squadratina affusolata quindi non è troppo netta, non altera le proporzioni del piede, è molto raffinata e molto chic ma è ancora più comoda. La parte bella estetica è meno importante della comodità la comodità batte anche l'estetica e l'estetica è stupenda. Quindi cosa vogliamo aggiungere? Il pellame esterno è una nappa ultramorbida, fodera interna tutta in pelle ovviamente abbiamo comunque il sottopiede morbido quindi comunque avete questo effetto un po' cuscinetto il cinturino è regolabile, ci sono già dei buchi fatti, buchi si possono aggiungere se serve e il tacco è un tacco 4,5 quindi bello comodo, fantastico dal giorno alla sera per le cerimonie, matrimoni, per il lavoro per tutte le occasioni, san pietrini va bene dappertutto ed ha questa forma squadratina quindi non si incastra da nessuna parte sono comode perché proprio il piede dentro non è stretto in nessun punto e quindi anche le dita sono proprio comode come se fossero scalze ma sono vestite con grand class questo è ovviamente l'altro colore che è un azzurro con punta azzurrina ancora più chiara sono magnifiche queste con i jeans, con i pantaloni bianchi, con il beige io vi posso aiutare in tutto a scegliere la taglia, a capire gli outfit però non mi chiedete di scegliere per voi la versione cromatica migliore perché sono da avere tutte e due per quanto mi riguarda se le ho fatte tutte e due perché sono da avere tutte e due sono bellissime, sono veramente comode, comode, comode guardate che belle con i jeans, vabbè a parte le mie pose che non sono proprio le più belle del mondo la calzata è regolare quindi non dovete cambiare taglia, prendere la taglia in più, niente non dovete fare niente, dovete solo scegliere il colore, ignorare le scatole intorno a me e appunto selezionare la vostra proposta preferita tra Sky e lei